Io mi chiamo Lino Guanciale e questa sera, qui, in questo spettacolo che si intitola Zoo, interpreterò il personaggio di Sergio Blanco. Sara? Io sono Sara Potignano e in questo spettacolo interpreterò il personaggio della dottoressa Rosenthal. Lei è quello del progetto di scrittura, vero? Tanzo? Lui è Sergio. Tanzo? Il loro DNA è per il 98% uguale a quello degli esseri umani. Quello che mi piace è l'idea di disfarmi della realtà. C'era qualche cosa in Tanzo che a poco a poco mi stava catturando. Se si è innamorato di un gorilla dovrebbe accettarlo una volta per tutte. E dovrebbe anche accettare il fatto di essere riuscita a far innamorare un gorilla di lei. Ogni dolore si calma. Anche il suo si è calmato. La specie umana è meravigliosa. Ci hanno dato la bocca per mordere e abbiamo imparato a baciare. Il suo si è innamorato a far innamorato a far innamorato a far innamorato.